Mister, si aspettava un ritorno migliore qui a Biceglie, si riparte dall'ottimo secondo tempo, ma qualche occasione di troppo asciupata? Ma secondo me sbagliare troppi gol davanti alla porta, poi la squadra avversaria non ti perdona, perché loro hanno avuto due palle gol e noi ne abbiamo avuti sette davanti alla porta e non si può sbagliare sette palle gol. Abbiamo fatto un errore clamoroso sul gol, però ho visto un po' di reazione da parte della squadra, più grinta, va giustata la squadra, va sistemata, perché per fare un capitolo diverso ci vuole ancora qualcosina, specialmente in avanti, perché abbiamo sbagliato troppo. Una delle attenuanti può essere la mancanza di un centroavanti di peso, fuori Zaldua per l'infortunio, con i bonicelli, non hanno le caratteristiche da prima punta? Sono due esterni, però purtroppo non avendo un attaccante, ho messo due attaccanti avanti veloci con un trequartista, però è stata dura perché abbiamo avuto tante palle gol, quando non fai gol davanti alla porta in quella maniera, poi non ti perdono l'avversario, anche se la Bersano era molto meno forte di noi, però ci hanno messo grinta, ci hanno messo qualcosa in più, secondo me. E qui da pochi giorni che squadra ha trovato nel complesso e se urge qualche intervento sul mercato? Ho parlato con la società, ho già parlato con la società, ho detto le cose che mancano, i ragazzi che devono, tra virgolette, andare via, che non fanno parte del mio modo di giocare, loro lo sanno, quindi domani parlerò con la società, dirò i giocatori che devono andare via e quelli che verranno, perché ci vogliono giocatori di gamba, manca un quacco giocatori di gamba, secondo il mio punto di vista, manca un attaccante di peso avanti che sa fare la guerra, ci manca proprio questa cosa qua. La società è propensa a fare dei sacrifici e quindi io sono sfiducio, sono venuto qua con grande entusiasmo e sono convinto di far bene.